Un'iniziativa anticrisi, anche a Taranto arriva il latte alla spina, un litro costa quasi la metà rispetto a quello confezionato. L'iniziativa di Coldiretti, Gianni Sebastio. Un nostalgico ritorno al passato, inaugurato a Taranto il distributore di latte alla spina appena munto. Nella sede del mercato degli agricoltori, in Corso Umberto, stamattina c'era già la fila, non solo per il vantaggioso prezzo al litro, 90 centesimi, ovvero 40% in meno rispetto al latte confezionato, ma per un vero e proprio desiderio di genuinità. Il latte appena munto giunge da Mottola dalla masseria Don Marino di Anna Maria Pizzarelli. Sono molto contenta di questa fila, vuol dire che comunque Taranto recepisce la qualità del prodotto. Quali sono le caratteristiche del latte prodotto nella sua azienda? Il nostro latte è genuino, è solo refrigerato, quindi garantisce tutte le qualità organolettiche che può avere un latte di alta qualità come il nostro. E quindi la cosa migliore che può fare una persona qui di Taranto è quella di assaggiarlo, perché comunque è sintomo di genuinità e può portare un po' di benessere in questa città. Lei consiglia di bollirlo? Ovviamente consigliato, perché comunque è anche previsto per legge, però ognuno ha la libera scelta di degustarlo anche così. Signora, lei perché ha deciso di prendere il latte alla spina, fresco, appena munto? Perché mi auguro che sia buono come quello di una volta, quando eravamo piccolini. Io addirittura nel mio passato avevo proprio dietro casa dove andavo a mangiare io con la mia amica e quindi bevevo il latte. Voglio vedere la differenza fra quello che compriamo giornalmente e con questo. Siamo tranquilli sulla qualità di questo latte? Io credo proprio di sì. Sono oramai sei mesi che l'azienda è sottoposta ai controlli settimanali e continueranno ad esserci i controlli settimanali. Solo 15 giorni fa hanno avuto l'autorizzazione ed oggi siamo pronti a disposizione dei consumatori. Io credo che si consiglia di bollire prima di consumare, ma è semplicemente un consiglio, perché la certezza e la garanzia verso il consumatore è la nostra più grossa preoccupazione. Grazie.